Ieri c'è stato un sopralluogo a Mercogliano nella struttura sportiva per capire se può essere un luogo per accogliere il ritiro della squadra. Sì, abbiamo fatto un sopralluogo ieri, anche se a tarda serata, per vedere un attimo in che modo è il mando erboso, per vedere se possiamo fare lì il ritiro, perché l'avevamo già promesso al sindaco D'Alessio. Per noi sarebbe comodo, perché restiamo ad Avellino e è comodo per tutti. Diciamo che non è in condizione perfetta, bisogna che ancora ci deve fare dei lavori, mi ha promesso che in questi giorni li farà. Quindi per quando dovremmo fare il ritiro credo che potremmo usufruire della struttura, che è una bella struttura. Poi sta Mercogliano sotto la montagna, si sta bene, quindi va benissimo per il ritiro. Avevamo individuato già l'anno scorso, però poi per questioni autorizzative non siamo riusciti a farlo. Però quest'anno sembra che restiamo qui, restiamo ad Avellino, quindi ripartiamo da qui e ripartiamo bene.